Sono giorni di lavoro per i presidenti e direttori sportivi delle squadre di calcio Iblee in vista dei campionati di eccellenza e promozione. Il Modica Calcio, dopo l'ottimo torneo disputato la scorsa stagione, sta valutando diverse soluzioni tecniche per rafforzare l'organico e disputare un campionato che riesca a riaccendere la passione dei tifosi verso la squadra della città, come ci conferma il presidente del New Modica Calcio, Mommo Carpentieri. Stiamo sondando calciatori di categoria superiore, categorie che sicuramente faranno la differenza nel campionato di promozione, che stiano tranquilli i nostri grandi e numerosissimi tifosi, che quest'anno allestiremo una squadra che dirà la sua nel campionato di promozione. Aspettiamo anche l'invito del nuovo assessore che dice che ha invitato tutte le società sportive. Il calcio è sempre uno sport sano, il calcio al Modica è il Modica Calcio. Quindi stiamo tranquilli, stiamo calmi e stiamo lavorando per fare bene per la nostra città e per la nostra squadra, e soprattutto anche per i nostri tifosi.